Conceptual map, mappa concettuale, formazione, software. Un testo è un testo e un disegno è un disegno, ma una mappa concettuale? Le definizioni non sono univoche. Si tratta della rappresentazione grafica di un processo mentale per il quale ci si può aiutare con frecce, disegni e anche con la multimedialità. Utile per rappresentare un flusso di pensiero o anche una strategia di ricerca. Sono molteplici i software, disponibili anche gratuitamente per tracciare mappe concettuali.